Angelo Vaccarezza, Savona conquistata, ma ve l'aspettavate? Ogni giorno che passava era sempre più probabile, anche perché noi abbiamo trovato una candidata fantastica. Ogni giorno lei ha conquistato consenso, si è fatta conoscere dai savonesi, più la conoscevano, più la amavano, più la votavano. La dimostrazione è che da un lato il progetto Giovanni Totti funziona, dall'altro che, dato che c'è un dato nazionale non favorevole al centro-destra, che questa città voleva proprio cambiare. Il PD ha governato male ovunque e qua è riuscito a fare anche peggio.